L'ambiente, un tema che da sempre è stato colonna portante in seno alla politica del Movimento 5 Stelle, un argomento che tocca poi particolarmente la nostra regione. Nel dettaglio il consigliere regionale Vincenzo Vidione spiega l'idea che verrà presentata ai vertici regionali. Abbiamo più volte sollecitato sia la Giunta che il Consiglio a aprire velocemente questo famoso piano dei sogni che il De Luca ha presentato anche a Bruxelles. Però al momento non abbiamo ancora avuto modo di avere carte in mano per poterlo esaminare. Sicuramente dobbiamo passare attraverso le questioni che riguardano la bonifica dei territori. Dobbiamo cercare comunque di impiegare le risorse in maniera più oculata rispetto a come è stata presentata nel passato anche dal Governo perché è impensabile di sguinzagliare militari attorno a chi va a incendiare i roghi senza fare una campagna di contrasto a monte degli sversamenti perché sarebbe l'ideale cercare di far riemergere anche dal sommerso tutte quelle attività che smaltiscono in via illecita. Se si comincia da questo approccio abbiamo grosse possibilità di riuscita. Per quanto riguarda invece il problema delle balle smistate in giro per la campagna si continua a parlare di incenerimento, si parla addirittura di cementifici che non sono tecnologie che possono essere utilizzate ma proprio fuori da ogni logica e ce lo dice anche la direttiva europea del 2008. Quindi bisogna cambiare atteggiamento. Noi siamo per il distretto del riciclo, abbiamo già presentato questo progetto alla vecchia giunta con Caldoro e l'assessore Romano. Ci auguriamo che venga preso in considerazione quanto prima anche da questa giunta per l'interesse della collettività e di tutto il territorio che va tutelato specialmente in campagna.